Ho deciso di dipingere Franco Scaldati perché parla di me. Franco. Franco è stata una folgorazione. Lo odiavano in tanti. Perché il mondo è violento? Cioè lui aveva veramente un suo mondo. Altri mondi. Fuori c'era un mondo contornato di violenza, di povertà. Quella violenza quando entrivi lì dentro, quella povertà si trasformava in poesia. Franco è riuscito a dare voce alla città. Franco ha fatto parlare il popolo. È stato il primo a usare il dialetto nel teatro. Franco era un continuo fiume di ricerca. Proprio permette queste epifanie. Che cosa siamo noi palermitani nel profondo della nostra realtà? Rosa aurora. Azzurri l'occhio tuo sul radio c'è. Mi emoziona. Molto, molto, molto emozionato. Questo è Franco. Questa è la verità della nostra umanità. Franco, secondo me ha avuto il coraggio di guardare negli occhi. Questa cosa che fa paura. Perché non tutti hanno il coraggio della verità. Io volevo sapere un uomo con finissima e ramare. Io volevo sapere un uomo rurucuna ma in me sale. Io volevo sapere una barca con l'orchezza a me insomma. Chissù è Franco Scaldati.